Chi vorrebbe una Francia senza Louvre? O una Russia senza remitage? Ho visto la Louvre. Ah, la Louvre sta. Signor Jojard, lei è il primo alto funzionario francese che vedo al suo posto. Parla tedesco? No, sono molto francese. Anche la più felice delle città non è riparo da un disastro. Chi sarei stato? Se non avessi potuto vedere gli occhi di coloro che vissero prima di me. Ma forse tutto questo non è mai successo. Anche la più felice delle città non è riparo da un disastro. Anche la più felice delle città non è riparo da un disastro. Anche la più felice delle città non è riparo da un disastro.